Luce Verde, Roma Buonasera e ben ritrovati all'ascolto in studio Donatella Russo traffico intenso sul raccordo anulare code attratti dalla Roma Fiumicino alla Romanina in careggiata esterna, code anche in careggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e dalla Nomentana alla Rustica trafficata via del Foro Italico code tra la Galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi in direzione di via Salaria quindi sempre per traffico sulla tangenza l'est code in direzione San Giovanni tra Settimio Passamonti e via Le Castrenze altre code in direzione stadio da via dei Monti Tiburtini a via Salaria Villata e code per un veicolo in panne sulla tratto urbano della A24 della tangenza l'est via Le Togliatti in direzione del raccordo per traffico altre code verso la tangenza l'est a partire da Portonaccio a Prima Valle e lavori urgenti in via San Melchia de Papa chiusa al traffico fra via del Forte Braschi e via Mattia Battistini in via Po segnaliamo una voragine in prossimità di Corso d'Italia per questo si transita a senso unico alternato inevitabili i rallentamenti incidente poi su via Nomentane in prossimità di Piazzale e di Portapia traffico rallentato in direzione del centro ed infine altro incidente in via Tuscolana con code tra Viale e Marco Fulvio Nobiliore e via Calpurnio Fiamma in direzione del centro è tutto a risentirci un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale